signori amici e venditori di patate bentornati in questo nuovo video quante volte avete visto video di minecraft così o così o così beh tanti pc non riescono a reggere certi tipi di grafiche ma comunque quello che vedremo in questo video è un piccolo tips picchio un piccolo aiuto che vi può essere utile per migliorare leggermente e non appesantire troppo il vostro computer per prima cosa cliccate il link nella descrizione di questo video e inserite la chiave di decreditazione sempre nella descrizione di questo video scaricate la texture pack inseritela all'interno delle resource pack di minecraft ed eccola qui lively default l'applicate e avrete minecraft semplicemente molto più bello perché rende molto più accesi i colori come vedete abbiamo un verde molto più acceso non va a scavalare gli fps perché li trovo sempre simili cioè veramente anche con un rendering pazzesco di 32 cm ragazzi non avrete problemi guardate quanto carica in fretta non va a dar fastidio alle prestazioni del vostro computer come vedete il mondo è molto più acceso e noi siamo andati a perdere le prestazioni che avevate prima vi consiglio vivamente di utilizzare optifine per avere un risultato migliore e niente signore il video di oggi termina qui spero di esservi stato utile e che possiate giocare a minecraft molto più piacevolmente da me è tutto ci vediamo presto